Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Carganico, sono Fabiola, io sono Riccardo Cosi, mi chiamo Matilde, sono iscritto al sesto anno del corso di laurea magistrale in osso teatria e pratica di dentaria. L'Insubria offre tantissime possibilità agli studenti che vogliono fare esperienze internazionali. Soprattutto negli ultimi anni ha instaurato vari rapporti con l'estero, con delle università e con degli studi odontoiatrici privati. Nel mio percorso di studi ho vissuto due esperienze Erasmus, entrambe a Barcellona. Proprio grazie a questo ho avuto l'opportunità e il supporto da parte dell'università stessa di trascorrere un periodo all'estero. Ho potuto trascorrere un semestre di partecipare a un programma Erasmus Trainship a Barcellona. L'ho fatto in Portogallo presso l'Istituto e Gashmonish di Lisbona. E tra qualche mese partirò per la terza ad Atene. È stata un'esperienza unica e indimenticabile. L'Erasmus è stata per me un'esperienza incredibile. E lì ho avuto la possibilità di frequentare attivamente la clinica. Frequentando una clinica dentale davvero all'avanguardia. Mi ha permesso di prendere parte all'attività clinica. Sono cresciuta professionalmente, potendo prendere parte fin da subito attivamente alla pratica clinica. I reparti di pedodonzia, di endodonzia, di chirurgia orale e altri. Partecipare a congressi, studiare. Ho seguito anche dei corsi durante i fine settimana e degli incontri con dei relatori nazionali e internazionali. Ho instaurato dei rapporti speciali con dei professionisti che mi hanno accolta fin da subito come una figlia. L'esperienza all'estero è un qualcosa sicuramente di positivo, che consiglio a tutti. Per me è stata un'esperienza indimenticabile. Che mi ha permesso di crescere molto, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale. In quanto permette di crescere, di conoscersi e di migliorare. E quindi arricchire il mio bagaglio culturale, ma sicuramente anche quello personale. Instaurare dei rapporti di amicizia e soprattutto di migliorare le lingue. In primis l'inglese e poi di aggiungere al proprio bagaglio anche un'altra lingua, che nel mio caso è stata il portoghese. Non posso fare altro che consigliarvi questa esperienza, che sicuramente porteremo nel nostro cuore per tutta la vita. E questa secondo me è una grandissima opportunità. Auguro a tutti voi di poter vivere un'esperienza Erasmus positiva come la mia. Io vi auguro buona fortuna e spero di vedervi presto all'Insugria. Ciao!